Grazie mille. Che ha fatto, perché è vero che il FRED e sono tante associazioni, quelle che ha nominato Alfio, è anche vero però che senza il lavoro instancabile di uno come Alfio La Rosa, oggi il FRED non esisterebbe. Perché lui ha assicurato e anche la CGL hanno assicurato in perfetta armonia con gli intenti e con le strategie di confindustria, confartigianato, le cooperative, confconsumatori eccetera. Questa iniziativa che è unica al mondo e anticipa forse anche un nuovo modello economico nel quale le associazioni dell'impresa, le associazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori lavorano insieme nella stessa direzione. Ci sono certamente dei campi nei quali i lavoratori e le imprese non potranno essere sullo stesso lato della barricata. L'energia non è uno di quelli. Noi siamo profondamente convinti che questo debba valere anche per la società politica. Cioè, quello che diceva Alfio, che i nostri candidati, i candidati alle elezioni regionali debbano firmare questo patto per l'energia e per il lavoro, significa che i candidati se vogliono si possono dividere su mille altre cose, ma su un modello energetico che deve creare decine di migliaia di posti di lavoro per i siciliani, a partire dalla risorsa sole, non ci dovrebbero essere divisioni. Quindi ci dovrebbe essere una specie di patto per cui chi va al potere realizzerà finalmente questo modello che purtroppo è abortito con la precedente amministrazione, adesso vedremo perché, e chi invece è in opposizione su questo non metta le barricate, ma anzi collabori. Su tutto il resto poi si può, e si deve discutere perché è la dialettica della democrazia, ma su questo modello è applicato da gente che è di destra e di sinistra in tutto il mondo. La Germania ha creato oltre 200.000 posti di lavoro in meno di 10 anni e non è retta da una presidentessa ambientalista, come tutti sanno la Merkel è a partire del Partito Popolare Europeo, quindi ci sono altri casi in cui la terza rivoluzione industriale, cioè il modello energetico distribuito, viene applicato nell'interesse della popolazione. Allora, innanzitutto vorrei premettere una cosa, che la terza rivoluzione industriale è un modello energetico la cui dimensione ottimale è quella provinciale, quindi io sono estremamente grato al presidente Giuseppe Castiglione di essere qui con noi, perché lui è il presidente dell'associazione di tutte le province italiane, nel lupi. Noi abbiamo già avuto dei contatti in passato e lo stesso presidente Castiglione ha più volte, anche ufficialmente, anche sulla stampa, riconosciuto l'importanza della terza rivoluzione industriale per rilanciare questa dimensione del rapporto fra istituzioni e cittadini. Perché dico che la dimensione ottimale è quella provinciale? Quindi c'è bisogno di un recupero di valore rispetto alle province vituperate, forse inserite in un meccanismo infernale nel quale, siccome c'è questa psicosi del taglio, bisogna assolutamente tagliare, quindi abbiamo preso le province come capio espiatorio. Invece i tre elementi fondamentali su cui si basa una strategia locale per la terza rivoluzione industriale sono quello della riqualificazione professionale del capitale umano, perché senza giovani che sanno come funzionano gli elettrolizzatori, il solare termodinamico, i meccanismi di movimentazione dei tracker per il solare e così via, noi non andiamo da nessuna parte. E questo tipo di formazione ci aiutano tantissimo anche i centri di eccellenza che ci sono qui in Sicilia a farla, per esempio Vincenzo Antonucci del CNR di Messina, dell'Istituto Nicola Giordano, io l'ho conosciuto a Bruxelles perché lui è venuto e è uno dei rappresentanti all'interno di quella che all'epoca si chiamava piattaforma tecnologica per l'idrogeno, quindi voglio dire noi abbiamo delle eccellenze in Sicilia, dobbiamo valorizzarle per creare benessere e crescita sul territorio, a cominciare dalla riformazione del capitale umano, poi vedremo meglio, poi altra dimensione provinciale ottimale è quella della riconversione delle piccole e medie imprese, qui non si tratta di fare grandi centrali nucleari secondo la tecnologia EPR, si tratta di trovare decine, migliaia, centinaia e migliaia di piccole e medie imprese che a livello locale portino le tecnologie per produrre energia in casa, nei suoi capannoni delle fabbriche, sui centri commerciali, dappertutto, quindi è il lavoro che si può fare veramente su scala provinciale, bisogna in altre parole costituire un registro delle imprese che noi come Fred abbiamo già costituito e che però avrebbe dovuto essere fatto dalla regione, questo è il dato di fondo, e comunque il registro delle imprese è suddiviso per provincia, per tecnologia, in modo da fare una valutazione di quanti sono le imprese che si vogliono occupare di idrogeno a Caltanissetta, quanti sono quelle che si vogliono occupare di solar cooling a Trapani, quanti sono quelle che vogliono fare le smart grid a Palermo. Ecco, questo tipo di organizzazione e riconversione delle competenze dell'impresa verso tecnologie e mercati che non sono in crisi e che non vanno in crisi, perché l'energia insieme alle telecomunicazioni è l'unico mercato che non è in crisi, è ottimamente realizzato su scala provinciale, secondo noi. Terza cosa, il mercato va sviluppato e bisogna usare i fondi regionali, le PMI hanno bisogno di contratti più che di flessibilità, io non conosco un solo imprenditore che dovendo evadere un contratto da 500 milioni di euro dice non assumo nessuno perché c'è l'articolo 18, io penso che quell'imprenditore nel momento in cui c'è il contratto i lavoratori li assume e quando quel contratto deve essere finito gli strumenti di flessibilità per liberarsene ci sono, quindi basta con questa battaglia ideologica sui diritti dei lavoratori, il problema è creare contratti per le imprese e questo è un interesse comune dei sindacati e dei lavoratori e dei rappresentanti dell'impresa, ecco perché il FRED condivide questa visione. Allora, la terza regolazione industriale è partita nel 2007 con una dichiarazione scritta al Parlamento europeo, subito dopo questa dichiarazione scritta al Parlamento europeo venne, diciamo, noi venimmo consultati dall'allora Presidente, che veniva dal Parlamento europeo come del resto anche il Presidente Castiglione, entrambi firmatari di questa dichiarazione scritta e si decise di introdurre questi elementi di novità propulsivi rispetto alla, come diceva giustamente Alfio, rimasti totalmente sulla carta, il che è pessimo da un certo punto di vista perché abbiamo perso un sacco di tempo, ma è buono perché si apre una nuova fase all'interno della quale noi possiamo recuperare queste nuove tecnologie chiave come quella solare termodinamica che verrà approfondita domani, la progettazione hanno perso anche in creazione. Noi stiamo, per esempio, rinunciando adesso, non è il caso della Sicilia ma è il caso di altre aziende, purtroppo le politiche scellerate del Governo rispetto al sostegno alle rinnovabili, il Governo ha fatto una sola cosa giusta e è stato il conto d'energia per il solare termodinamico, su tutto il resto ha cannato totalmente la strategia, mettendo lacci, laccioli e burocratizzando enormemente la possibilità di fare anche dei piccolissimi impianti rinnovabili e quindi stroncando l'impresa perché se io per fare un 20 kilowatt devo presentare 125 adempimenti, chiaramente capite che questo tipo di cosa un ingegnere non ce la fa, una piccola e media impresa non ce la fa. Oggi è più complicato farsi autorizzare un 20 kilowatt che non era farsi autorizzare un 1000 kilowatt nei precedenti conti energia. Ecco, questa è una cosa che va rivista subito e va rivista naturalmente a livello nazionale, però anche a livello regionale qualcosa si può fare perché laddove mancano gli incentivi però possono supplire altre risorse che appunto sono quelle dei fondi europei. Molto rapidamente questo PEARS prevede innanzitutto un riferimento alle strategie del 2020-2020 europee, appunto quelle che scaturiscono dalle dichiarazioni scritte che abbiamo visto, prevede un collegamento fra la terza rivoluzione industriale e tutti i livelli istituzionali, regionali e locali, come dicevo prima. Parla di un modello distribuito energetico, distribuito e interattivo di cui ci ha già parlato Alfio, quindi non mi dilungherò su questo. Altra cosa che ci ha detto Alfio che prevede l'obiettivo della decarbonizzazione. Ecco, questo non stiamo dicendo che domani la Sicilia è post-carbon, stiamo dicendo che bisogna sapere quando vogliamo esserlo. Se siamo al 2100 vuol dire che al 2050 dobbiamo essere almeno 50% di emissioni, al 2030 dobbiamo essere almeno 25% e dopodomani dobbiamo essere almeno 0,1%. Cioè abbiamo degli obiettivi intermedi che la popolazione deve andare a verificare che si stiano realizzando. Ci vogliono delle risorse per monitorare come si stanno abbassando le emissioni di questa regione, perché l'obiettivo stabilito dal PEARS, carta canta, è la decarbonizzazione della Sicilia. Poi c'è il principio delle best available technologies, soprattutto nel PMI, quindi dell'innovazione, come diceva anche il commissario Tajani. C'è il principio di introdurre costruzioni a energia positiva. Certo, questo per le costruzioni vecchie non è possibile. Questo edificio nel quale siamo oggi non sarà mai energia positiva, ovviamente. Però si può fare qualcosa per abbassare i suoi consumi e per renderli più efficienti. Ma i nuovi edifici ormai, e deve essere obbligatorio che siano energia positiva, perché le tecnologie di costruzione, andiamo a vedere la Buica in Francia, l'Aziona in Spagna e purtroppo, che mi consti, pochissimi in Italia, a parte alcuni che sono membri del FRED, che stanno sviluppando però non nel mercato principale, ma nel mercato marginale di costruzione di energia positiva. Le costruzioni di energia positiva sono anch'esse uno degli obiettivi del PEARS. la creazione di filiere industriali. Filiere industriali significa che sul territorio si mettono in gioco tutti gli attori, dalla produzione all'installazione, alla distribuzione, alla riparazione e ai servizi, per quella che Rifkin chiama l'internet dell'energia. Cioè un modello nel quale, come diceva Alfio, ci sono milioni di piccole centrali da 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100, 1000 kilowatt in rete fra di loro, piuttosto che 4, 5 grandi centrali tipo Priolo, Gela, Termini Merese, impattanti sull'ambiente e sul clima. Quindi è l'indotto praticamente. Però questo indotto non nasce da solo. Le pubbliche istituzioni devono intervenire su questo. Ci vogliono, il PEARS parla di sistemi di rete intelligente, delle smart grid, dell'uso dell'idrogeno, addirittura l'idrogeno, cioè come sistema di accumulo diventa una delle scale di priorità per concedere le autorizzazioni alle imprese che fanno richiesta per le impianti di energia rinnovabile. Poi si privilegia, l'ha detto anche Alfio, il reddito delle imprese e delle famiglie. Quindi l'energia rinnovabile deve portare reddito alle imprese e alle famiglie siciliane, c'è il principio di sostituzione, cioè man mano che io installo rinnovabile devo deinstallare il fossile. Se io voglio tenere anche il fossile, allora non mi serve a niente questa cosa qui. L'Europa ce lo dice, progressivamente andare verso il modello solare, quindi devo uscire dal modello fossile. E' questo principio nel PEARS. Poi ci sono le misure di compensazione sul territorio, le misure di compatibilità ambientale non mi dilungherò. Si privilegia l'autoconsumo perché non bisogna sovraccaricare le reti, quindi bisogna immettere in rete soltanto l'eccedenza di quello che non viene consumato localmente. In questo sono importantissime le smart grid. Poi si parla dei fondi europei, del POFESR a promozione 2007-2013, quindi oggi non ci stiamo inventando niente. Il PEARS già prevedeva che si potessero utilizzare i fondi europei per lanciare questo modello. Oggi è necessario farlo perché il 91% dei fondi a disposizione della Sicilia non sono stati spesi ed è passato il 90% del tempo. Poi misure di mitigazione ambientale, il solar cooling, il solare termodinamico è previsto all'interno del PEARS, le agevolazioni per le famiglie per accedere ai finanziamenti, la formazione professionale, insomma tutto questo e la partecipazione della Sicilia alle attività di produzione energetica, tutto questo nel PEARS c'è. Sono tanti puntini che vanno collegati, come in un grande disegno, però questo disegno all'interno del PEARS c'è. Adesso cerchiamo di capire però che significa tutto questo in termini economici, in termini di benessere e di crescita per la Sicilia. Teniamo presente che la spesa su un PIL di 70-80 miliardi di euro, la spesa alimentare annua dei siciliani era in circa 10 miliardi di euro, quindi è importantissimo creare delle filiere energetiche alimentari locali perché il cibo è la forma prima di energia e in una visione olistica noi non possiamo fare energia pulita e cibo sporco. Il cibo va fatto utilizzando energia pulita, quindi portando sull'agricoltura tradizionale, locale, autottona, le tecnologie emergenti tipo la refrigerazione solare, tipo l'irrigazione fotovoltaica, le mini-biomasse, le mini-centraline di biomassa per i residui agricoli forestali, tutto questo va creato un mercato di filiera locale, la Sicilia deve smettere di comprare il cibo all'estero perché il mercato del cibo è un settimo del PIL e se noi incominciamo a produrre di più localmente vuol dire che noi avremo quei soldi che circolano e girano nell'economia isolana, non vanno più a finire a Israele, in Spagna o in Argentina o andranno a finire in misura minore. La spesa energetica è all'incirca 5 miliardi di euro, quindi è un altro grosso mercato annuale sul quale possiamo insistere. Se ciascuno diventa attore del mercato energetico, come diceva prima Alfio, una parte, per quanto piccoli questi 5 miliardi di euro finiranno in tasca al cittadino che ha l'impianto rinnovabile piuttosto che in tasca al grande monopolio dell'energia. Si ridurranno i profitti dei grandi monopoli di energia, sarà un piccolo salasso per loro, ma sarà un grande passo per la crescita complessiva del territorio. E infine i rifiuti. Noi dobbiamo cominciare a pensare a un ciclo dei rifiuti in cui il rifiuto non esista, perché il rifiuto non esiste. Il rifiuto è un errore di progettazione del prodotto. I rifiuti sono dei prodotti a fine ciclo vita che possono entrare in un altro ciclo, però per fare questo bisogna cominciare a pensare diverso. Non bisogna più pensare a discariche, non bisogna più pensare a inceneritori e siccome il conferimento in discariche e negli inceneritori, oltre al grossissimo impatto ambientale, ha anche dei fortissimi impatti economici, perché costa, noi possiamo cominciare, come dice il professor Paul Connet, a creare delle filiere locali in cui i rifiuti vengono portati dai cittadini nelle miniere urbane, dove dei messi comunali li recepiscono, li pagano anche simbolicamente, tipo, non so, una batteria usata di macchina a 2 euro, una cornice di una finestra a 5 euro e entrano intanto nel mercato della seconda mano, poi vanno negli atelier di riparazione dove sono tutti posti di lavoro locali e poi rientrano in circolo. Quindi noi con questo, alla fine di questo percorso, abbiamo zero waste, zero rifiuti, zero, non abbiamo più discariche, non abbiamo più inceneritori e abbiamo un'economia che gira a livello locale, perché tra l'altro, è vero che poi si consumerebbe di meno perché si riparerebbero le cose, però insomma tutta l'elettronica di largo consumo, per esempio, è fatta in Cina o a Taiwan, quindi sono posti di lavoro cinesi o taiwanesi, ma il posto di lavoro di quello che mi ripara il radioregistratore invece è locale e allora non è indifferente creare o non creare questo circuito per l'applicazione della direttiva europea, peraltro, sui rifiuti, che è quella delle tre R, risparmio dei rifiuti, riciclo, riuso. Risparmio soprattutto significa comprare per esempio i beni di consumo sfusi e qui rientriamo nel discorso delle filiere agricole e andare con le sport come si faceva una volta, restituire ai produttori tutti gli imballaggi, ecco tutto questo è importantissimo anche per creare benessere a livello locale e questi 200-300 milioni di euro in questo modo diventano salari per lavoratori e non diventano conferimenti in discarica o agli inceneritori. Concludo dando soltanto un'idea di uno studio che noi abbiamo realizzato per quanto riguarda una delle tecnologie, cioè quella del fotovoltaico, siccome noi siamo per il fotovoltaico integrato in architettura e non il fotovoltaico a terra, cioè impattante anche sui cicli agricoli e sui processi idrogeologici, bisogna capire se questo ci permette di fare massa critica o no e lo abbiamo capito perché noi abbiamo fatto uno studio e abbiamo visto che ai tetti che c'erano in Sicilia, con i dati che c'erano in Sicilia disponibili nel 2007, coprendo soltanto il 6,5% dei tetti della Sicilia si riusciva ad arrivare alla rispettabilissima cifra di 1000 MW di fotovoltaico, 1000 MW sono all'incirca la metà dei consumi elettrici siciliani, quindi si può fare massa critica con un modello distribuito di fotovoltaico e attenzione non sto parlando di solare termodinamico che verrà approfondito domani, non sto parlando di tante altre tecnologie, sto parlando soltanto del fotovoltaico. Questo fotovoltaico chi lo va a installare lo vanno a installare 36.643 partite IVA siciliane, ecco il bello dell'energia distribuita, ecco dove nasce anche l'importanza delle province e quindi diciamo da questo punto di vista il PEARS è una grandissima opportunità per fare come in Germania, cioè 260.000 unità di lavoro create per fare il 10% all'incirca di energia rinnovabile contro 260.000 unità di lavoro per fare il 90% di energia da fonti fossili. Questo è uno scenario che crea lavoro perché ha altissima intensità di lavoro e quindi deve dare da riflettere a tutti coloro che si candidano alla guida e alla direzione di questa regione per i prossimi 5 anni. Ho concluso, grazie.